Come si fa a far capire la mafia ai ragazzi? Semplicemente parlando con loro, raccontando tutto il mio passato con semplicità, senza usare parole astruse, e cercare di colloquiare con loro perché l'importante è farle insieme a loro dibattere il problema di Cosa Nostra o delle mafie in generale. La mafia raccontata agli studenti, il narratore è sicuramente d'eccezione, uno che la mafia la conosce, l'ha conosciuta e soprattutto l'ha combattuta. Pippo Giordano, il sopravvissuto, riprendendo il titolo del suo libro, ex ispettore della DIA, vissuto il periodo di lotta alla mafia all'epoca di Borsellino, Cassarà, Falcone, Montana, nel suo periodo più duro e sanguinoso. Una stagione, come ha raccontato lo stesso Giordano e ragazzi delle terze medie dell'Istituto Comprensivo Ferrucci di Larciano, dove ogni giorno a Palermo c'era un omicidio di mafia. Io ebbe la fortuna di lavorare a Palermo in una quinta sezione investigativa, dove eravamo nemmeno una cinquantina di persone. In cinque anni cinque miei colleghi sono stati ammazzati, cinque morti, ammazzati, un ragazzo che era in macchina con me. La reazione che le fa più piacere da parte degli studenti quando lei fa questi incontri qual è? È la loro partecipazione e le domande. Hanno voglia di sapere, hanno sete di sapere. E la domanda più ricorrente? Hai paura? Avete paura? Sono due domande ricorrenti. Hai avuto paura? Lo fareste ancora? Queste sono le due domande. E poi vogliono sapere di Borsellino e Falcone. L'incontro è stato promosso dal comune di Larciano con la collaborazione dell'associazione agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Quando successe la strage di Capaci, il 23 maggio del 92, avevo avuto l'immensa fortuna di passare le scuole superiori, dove l'insegnante d'italiano ci parlava sempre di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, delle loro imprese, di quello che stavano portando avanti. Quando poi successe questo fatto, questa cosa mi colpì tantissimo, perché proprio avevo appreso e capito nel tempo l'impegno che c'era stato. Oggi sono felice di aver ospitato Pippo Giordano perché lui appunto è stato un sopravvissuto. È l'unica persona che è riuscita della sua squadra a sopravvivere a questi fatti. È incomiabile l'impegno che mette ancora oggi, a distanza di 30 anni, nel portare nelle scuole la voce di queste persone che purtroppo non ci sono più, ma che veramente hanno dato tanto per la legalità.